Nell'Udinese è più che mai intenzionata a proseguire la straordinaria striscia positiva. Guidolin deve rinunciare al portiere Andanovic alle prese con lievi problemi muscolari. Al suo posto c'è Belardi che torna tra i pali in campionato dopo quasi due anni. In difesa Coda dà il cambio a Benatia. Ma l'assenza che pesa di più è quella di Sanchez, squallificato. Lo sostituisce Denis. Nella Bologna Malesani deve rinunciare a Gimenez per squallifica e Dara Mires per il fortunio. Ambe due sono scorie della vittoria sulla Lazio. In attacco Meggiorini a fianco di Vaio. Buone notizie anche dal fronte societario per il Rosso Blu. Nell'assemblea di oggi ha provato l'aumento di capitale sociale. Insomma la barchetta bolognese pur in un mare tempestoso mantiene la rotta, almeno per il momento. Arbitra il signor Doveri di Roma alla quarta presenza in Serie A. seconda in questo campionato. Raccoglie la palla di nuovo il Bologna. Mette dentro Rubin. Tutto spostato in avanti sulla faccia sinistra. Il tiro. E la parata di Belardi. Il tiro di Meggiorini. E la bella disposta di Belardi al decimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. C'è l'angolo di Di Baio. Testa di Meggiorini. E Hiller salva sulla linea. Clamorosa occasione per il Bologna. Meggiorini. Di Baio. Di Baio. È in gioco. Di Baio. E questa sera i centri avanti colpiscono così. Non c'è da fare. Domizzi. Grattato su di testa. Poi il rinvio. Sbagliato. È Di Natale. No. Di Natale si è mangiato un gol fatto. E comincia la ripresa tra Udinese e Bologna. 0-0 dopo il primo tempo. Di Baio. Meggiorini. Ancora Di Baio. Di Baio. Di Baio. Il tiro di Di Baio. Il gol. Questa volta Di Baio non sbaglia. Il gol di Di Baio. Al diciannovesimo minuto di gioco. Questa volta il cannoniere bolognese non ha sbagliato. E il suo destro è stato inesorabile. Intanto occorre dire che Di Baio è salito a 14. Reti. Pallone Di Natale dentro. E la palla in rete. Pallone Di Natale. E la palla è dentro. Il pareggio. I Domizzi. Il pareggio al trentaduesimo. Rivediamo. È arrivato bruciando tutti i Domizzi. Ottima intuizione del difensore. e ha anticipato tutti. Rubin. Mutarelli. Mutarelli per Meggiorini. Grandissima parata di Belardi. Grandissima parata di Belardi al quarantesimo. E termina la partita. Udinese e Bologna. Uno a uno. ujące via. Ceruna parata di Belardi. Sia e Bologna. Sia e Bologna. Ioanche. Udinese e Bologna. Sia e Bologna.